Con Aurelio Amendola, fotografo d'arte nel corso della sua carriera, ha interpretato i grandi capolavori del passato, dal Bernini, Michelangelo, Canova, tanto per citarne qualcuno, fino ad arrivare ai ritratti dei grandi artisti a lui contemporanei, De Chirico, Warhol. La lista è troppo lunga per citarli tutti. Burri, l'amico Burri, Manzù, Marino, insomma tutti amici purtroppo che non ci sono più. A quale di loro è stato particolarmente legato? Legato come antica Michelangelo. No, intendevo durante la sua vita. Sicuramente Marino e Burri, perché sono due persone che mi hanno dato tanto. Io Burri, Marino l'ho conosciuto, ero giovanissimo, era nel 64, erano le prime armi. E ho avuto la fortuna che Marino mi disse che devo fare un libro e vorrei che tu mi fotografassi tutte le sculture per il mondo. Io ho conosciuto tutti i più grandi collezionisti nel mondo. Però mi disse una frase che è quello che mi ha aperto a fotografare la scultura moderna e antica. Le mie sculture le devi far parlare. Si parla del 64, 68 e io faccio maestro. Ma come fa parlare? E poi col tempo ho capito se le sculture si fanno parlare con le luci. Con le luci la scultura la cambi. Io quello che voglio è far vedere alla gente quello che non vede nelle sculture. E ci è riuscito? Ci sono riuscito, in parte spero di sì. Per i moderni non è che a me mi interessa fare ritratti. Se lei vede le mie foto sono tutte fotografie nei loro studi mentre lavorano. Perché tutti conoscano il quadro di Burri o di Marino o di Manzù o di Ceroli o di Burri o di Liechtenstein o di Warren. Ma pochi sanno come si fanno. E lì è stata un'idea che io incominciai nel 77 con Antonio Recaicati che mi fece vedere come lui faceva i quadri. Però non voleva. A un certo momento li ruppi talmente le scatole che mi aprì lo studio e c'è queste fotografie. Lui che si benda e fa le impronte si mette in terra e quello era il quadro. Fino ad arrivare alla grande serie di Burri mentre fa la combustione che brucia tutto. E queste sono foto che io ritengo orgoglioso di averle fatte. Come vedo ma nel suo studio tutto macchiato mentre lavora. Oppure Nicci, l'ultimo di Nicci che è mancato ora alla Biennale. Io sono andato nel suo castello e ho detto io vengo a fotografarti ma voglio vedere come tu fa i quadri. La buttava al sangue di Ubue e la vernice nei quadri e c'è tutta questa serie che si chiama Happening. Ecco poi ogni tanto anche qualche ritratto. Prima di dire Andy Warhol l'ho fotografato ma non mi faceva vedere come faceva quadri. A parte io lo sapevo. Ma lei è stato nella factory? Ma diamo, sono stato l'ultimo fotografo, così mi hanno detto, altre guadagnine e gli altri che io sono stato ricevuto da Andy Warhol nel 76 fino alla morte dell'86. È vero quello che si dice, anche recentemente è uscito un libro su questo tema che Warhol utilizzava in un certo modo le sue modelle, se ne innamorava anche in parte, creava le sue opere e poi le abbandonava. Io questo non so ma sono sicuro che era più fotografo di me, che lui fotografava tutti con Polaroide. Lui è venuto a Roma a fotografare il Papa, tutte le cose che faceva e le fotografava, tutte le fotografava. Però non era un suo amico? No. Perché spesso lei viene associato a Warhol, però in realtà lei ha stretto legami importanti, personali, con molti altri artisti ma non con lui. No, mi dicono Warhol perché è famoso, come lì che stanno, sì, lì che stanno, l'ho visto più volte, ma Warhol sono state solo due occasioni. La prima era a New York, fu talmente facile, io lo chiamai e mi mandò anche in quel paese la segretaria. Dice, ma scusi, ma lei chi è per venire a fotografare Warhol? Io mi incazzai, ma ero giovane. Dice, come che sono? Sono il fotografo di Marino e di De Chirico, che in quegli anni lì De Chirico e Marino erano più famosi di Andy Warhol. La mia foto di De Chirico in gondola, che fu un'idea mia, è del 73 e quella di Marino Marini col cavallo sono 73. Dopo questa battuta la segretaria disse queste cose e il giorno dopo mi ha ricevuto. Nel fotografare le sue opere si vince sempre una certa ricerca della sensualità, in qualche modo. La stessa ricerca c'è anche nelle persone o soltanto nelle sculture? Beh, devo dire più nelle sculture, specialmente negli altri, come a me deve pensare al Canova, a Michelangelo, la sensualità, al Bernini, questa delicatezza, queste cose, no? Lì, la sensualità negli artisti che trovo, no? Perché io voglio che loro lavorano e io seguo il suo lavoro, senza rompere le scatole. E le artiste le ha mai ritratte? Le artiste me lo dicono in tanti, purtroppo io ne ho fatte tre sole. Si vede Titina Maselli, Carla Cardi e La Fiorone. Però purtroppo non è che avevo, o non ce n'era o le trovavo, io che ne so, che devo fare? Però ho fotografato tanti artisti, Harry Moore che me l'ha presentato Marina, andai a Londra perché sono tutte cose, anzi con Harry Moore ho fatto la mostra famosa a Firenze che è stata una delle prime mostre che ha fatto Harry Moore a Firenze, una delle più belle. All'appello però manca Pablo Picasso che lei avrebbe dovuto fotografare, ma cosa è successo? È successo che mi chiamò Cesare Baldaccini, guarda il caso nativo pistoiese che era di pesce, che io gli avevo già fotografato le sculture a Nizia e tutto. E mi disse Aurelio ma io sono un amico di Picasso, madonna se tu puoi. E mi ricordo mi chiamò io, scappai come una lepre, lasciai tutto lo studio, dissi vado a San Paul. Arrivai a San Paul e la sera a cena ero con il montante, tutta questa gente, si parla del 72, figuratevi. Bene, la mattina dopo Cesar chiama Picasso e aveva una linea di febbre, diciamo 38, dice Cesar ma stai qui a San Paul, tu stai bene? Stavo proprio bene, c'erano tutti gli artisti. La sera si giocava a bocce con i montanzi, stava lì, ho conosciuto un sacco di persone, ma dopo quattro giorni che dovevo fare? Sono venuto via, poi lui sa malò, Picasso è deceduto. Però come dico io tutto nella vita non si può avere, sono contento così. Lei ha avuto tanto direi e ha dato tanto. Ho dato tanto, sì è vero. Ha menzionato un attimo fa Pistoia, la sua città natale. Le ha dedicato una mostra l'anno scorso veramente ricca e interessante. Noi altri fino a qualche anno fa, fino a una decina di anni fa, prima dell'avvento degli smartphone, avevamo gli album fotografici quando volevamo ricordare parte della nostra vita. Lei ha avuto praticamente la mostra perché ripercorrendo 60 anni di carriera penso inevitabilmente ha rivissuto 60 anni di vita. Sì, anche molto, devo dire, e mi commuovo un po' a dirlo, però gli auguro a tutti gli artisti di fare l'antologica nella sua città. È una cosa bellissima. Poi anche deve girare perché questa dopo è andata a Bari al Castello Svevo e ha fatto 27.000 visitatori. lunedì parte per Shanghai, quindi sono contento che questa mostra gira. Però è stata una grande emozione, sì, vedere la tua città che ti vuol bene. Quanto conta l'intuizione nella fotografia? Perché nell'arte sicuramente conta. Mi viene in mente Fontana, ma potremmo pensare a un cerchio, un quadrato, un colore, un qualsiasi cosa. Fatto per la prima volta diventa innovazione, diventa arte. Copiato, insomma, ha tutt'altro significato. Nella fotografia è pure così oppure conta anche la tecnica? Allora, io amo molto la camera oscura, perché ancora oggi io stampo e sviluppo da solo, in analogico. Ora, i fotografi modelli non me lo devono avere, però il digitale ha piattito tutto. Uno non sbaglia più una fotografia, scatta, non c'è perso di sbagliare. Però va avanti così, il mondo va preso così. Io vorrei che qualche giovane provasse la camera oscura, sviluppare le pellicole e tutta un'altra cosa. No, l'intuizione è uguale nella fotografia. Perché quando io vado a fotografare Burri, lui fa la combustione. Io cosa fa? Seguo tutto il processo della combustione. Quindi un altro fotografo, forse non gli importava, gli importava al viso. Io invece ho fatto tutta la sequenza e guarda caso sulle foto più belle che Burri amava. È una serie che la conosca in tutto il mondo, capito? E così ho fatto con Nietzsche, così ho fatto con Vedova, così ho fatto, non con tutti gli artisti, perché col pennello non mi torna e si vede che è finto, no? Mentre questi artisti che hanno questo modo di fare la pittura, il sangue in terra che brucia, Vedova che si imbratta tutto, Antonio Recalcati si mette in terra, non è che ce n'è tanti che fanno queste cose, quindi ce n'è pochissime. È quello che a me mi piace, è un'intuizione, credo. Lei però non nasce come fotografo d'arte, non nasce proprio nel mondo dell'arte, anche se comunque, sendo nativo di Pistoia, inevitabilmente è nato nell'arte. Però come ha cominciato? Se vuole raccontare. Se vuole, è un caso, no? Un caso che c'è una gita a Roma per il concittadino Marino Marini e mi chiama la scuola d'arte, che era il direttore, era Giovanni Bassi, poi c'era il mio amico Vivarelli, tutti i pittori pistoiesi, cappellini, insomma. Dice Aurelio perché non vieni con noi a farci qualche foto con Marino? Come una città scolastica che vanno a omaggiare il grande maestro. E io sono andato con loro. Figure, la mostra Marino si ricordava di me, c'erano Agnelli, c'erano tutti in quella mostra figurati. E lì finisce la storia. A tornare, uno storico dell'arte che insegnava a Pistoia, a scuola dell'arte, gli disse Aurelio perché non mi fotografi il Giovanni Pisano? Giovanni Pisano, che? Il pupo di Sant'Anna, è Dio buono, da bambino ci andavo sopra a rompere le scatole con il cavallo. Dice, però Aurelio, fai qualche scatto. Ma io, che ne so io, il sabato di domenica c'è da fare matrimonio, devo campare la famiglia. Capito? Dice, no, ma prova a fare qualche scatto. E come? E io andavo lì ogni tanto, vedevo a luce naturale, che ne sapevo, no? Ho fatto degli scatti, ma non gli ho dato peso. Insomma, queste fotografie le porta l'electa. E l'electa, dice Giorgio Fantoni, che è deceduto qualche anno fa, che è mio grande amico, dice, digli a questo giovane fotografo di finire il libro. Io, un libro? Un po' narciso sono sempre stato. A tutti gli artisti sono un po' narcisi. Sì, forse un po' di più. Capito? Allora che succede? Finisco queste fotografie, esce il libro. Esce il libro. Bello, bello. Ora mi metto le mani e i capelli a vedere queste foto. Ma a quei tempi, un generale è meglio. L'electa, se no, l'avrebbe trovato. Mentre esce il libro, un mio amico di Pistoli mi dice, Aurelio, si va a trovare Marino Marini, che io ero andato a fotografare, come si chiama, insomma, questa città scolastica a Roma, al Palazzo Veneto. E io sono andato con questo amico Bagliani e ho portato il libro del Giovanni Pistano. In quel momento lui doveva fare un libro e mi dice a me, sto facendo un libro, voglio te come fotografo. Ma aveva visto quelle foto lì. E va bene, ho detto, io sono contento. però dice, mi devi far parlare le sculture. E come si fa? Con la luce. Ma l'ho capito dopo. Ce l'ha spiegato prima come ha fatto. Ha capito? E di lì, da Marino Marini, poi è venuto pian piano fino ad arrivare a Michelangelo, che ci sono andato piano, perché sapevo che Michelangelo o tu lo fai bene o ti ammazzano. Ecco, e questa è la mia storia che poi ho abbastanza abbandonato tutti nel 73. Io mi sono dedicata all'arte. Lei l'ha abbandonato, però recentemente abbiamo saputo che qualcuno l'ha contattata per fare delle foto di matrimonio, è così? Lo dico, il mio benzinaio, il benzinaio mi fa. L'altro giorno, Aurelio si sposa la mia figliola, da te tu hai un sacco di macchine, ti do una cifra, vieni te. E io gli fa, per bene, guarda, ma io non le so fare, fa un altro lavoro, se tu vuoi ti do dei nomi, no? E lì finisce, sono tornato a fare benzina appena mi ha visto affatto. Scusa, Aurelio, non lo sapevo chi tu eri, ma così modestamente, ma è anche simpatico, capito? Alla fine l'ha fatta sorridere. Ma diamo, ma diamo, ci si può mica dare. A questo punto, prima di lasciarla andare via, non posso non chiederle, come mai, visto che ci troviamo a Livigno, come mai lei si trova qui? Perché Livigno è bellissima, lo vediamo, dal punto di vista passeaggistico, è una sorta di cartolina, però dal punto di vista artistico ha meno da offrire, quindi come mai lei si trova qui? Tanto c'è un'aria bellissima e si sta bene il Vigno, poi voi siete simpatici, quindi... No, ero in questi giorni da Ciugarri, a Lecco, e... e ero lì con un amico collezionista che voleva conoscere la Ciugarri. E nel mente gli ho detto, perché lui è di sondrio, Arturo, vorrei prendere un po' di fresco, mi piacerebbe trovare qualcosa, conosco Le Vigno, ce l'ho stato tanti anni fa, perché io sono un vecchio sciatore, e niente, sono qui per questo e sono felice. Purtroppo sto poco perché sono in partenza, devo ritornare perché devo mandare via le foto per Shanghai. Sì, come accennava prima. Però a Le Vigno si sta bene. Visto che appunto ci ha raccontato di acciugarri, a Lecco, perché lui vive anche a Lecco, giusto? Sì, vive parte dell'anno in Uruguay e parte a Lecco. Lui viene definito il Michelangelo del XXI secolo, lei concorda con questa definizione? Ma io c'andrei piano in questo, io amavo tutti, quando si parla di Michelangelo, lei sa che Michelangelo è un rompicoglioni, quindi, il divino. Lei pensa, la figlia a ridere, io ho fatto un libro su Bernini, no? Non è ridere perché era una domanda provocatoria. Su Bernini, ma Pablo lo pensa come me, penso. allora, Pablo è un grande scultore, però il tempo... Si, dicono che sia dei contemporanei sicuramente dell'Uruguay il più grande. Ah, sicuramente, sicuramente, però Michelangelo è il divino. Quando io ho fatto il libro su Bernini, io ho chiesto il permesso a Michelangelo. E come gliel'ha chiesto? Gli ha fatto una telefonata? Io ci parlo a Michelangelo, no? Gli ho fatto, guarda, devo fare il libro con Bernini e lui mi ha detto, ma che ti metti io delle tante? Pensate Michelangelo con me? E lui ha detto, ma io devo campare, no? E ho fatto questo libro su Bernini, bellissimo, si parla così, sono battute, però Michelangelo era Michelangelo. Ma certo. a me mi ha dato tanto Michelangelo, ho fatto sei o sette libri, sono stato il primo fotografo al mondo a fare una mostra all'Ermitage. E' stato premiato? Sono stato premiato, devo dire, sì, mi ha dato tanto. E' così. Anzi, ultimamente mi avevano, ora, ora di recente hanno restaurato la pietà di Bandini a Firenze e mi hanno chiesto di rifotografarla. Ho detto, sì, io vengo, ma fa una mia interpretazione. Ecco il modo. Sono andato lì, ho fatto una mia interpretazione. Prima di venire qui mi hanno chiamato, l'opera del Duomo dice, Aurelio, si vuole fare una mostra solo sulla pietà di Michelangelo, restaurata. Ma lei non si immagina il posto che mi hanno scelto, sono emoziatissimo. Dentro Santa Maria del Fiore c'è questa tribuna che hanno restaurato. È da brividi e un anno mi ha fatto mostra a nessuno. Sarò contento. Quindi anche per quello perché ho gli appuntamenti con gli architetti, con gli elettricisti e tutto. Quindi come si dice Michelangelo mi ha dato tanto. Michelangelo pure. Ma io devo dire sono contento. E attualmente collabora con qualche nuovo artista? Allora mi ha fatto una domanda molto carina lei. L'ultima artista che io ho fotografato è Giglio Dolfe 104 anni e poi ho smesso. È stata l'ultima volta quella lì? sì non mi ci trovo più. Come mai? Ma sono un vecchiato forse che ne so ma è bene così che ho fatto ho fatto deve rimanere o buono o poco buono il tempo ce lo dirà la storia. Le opere invece continuo a fotografarle. Sì mi piace molto. E quelle di Pablo? C'è una mostra a Lucca e io li ho fotografato sulle mure di Lucca e mi ha dato il libro ieri e l'altro. Queste sculture che tendono sempre verso l'alto no? Preciso. Nella sua esposizione a Milano probabilmente non era casuale immagino che non fosse casuale però ce n'era una in particolare di cui non ricordo assolutamente il nome che era posizionata in modo tale che dalla finestra si vedesse il Duomo parte del Duomo di Milano e quindi era una sorta di continuazione di questo senso verso l'alto a lei piace il suo stile? Mi piace molto mi piace anche lui come persona devo dire mi ha invitato alle feste ad andare a fotografare il suo museo nuovo in Uruguay sì io sono già stato ospite suo e sono contento starò giù 10-15 giorni a fotografare tutta la sua fondazione Chi altro le piace dei contemporanei? Io spero qualche giovane venga fuori però sono rimasto forse un po' indietro anche perché non sono più un ragazzo non mi faccia parlare non mi faccio non mi faccio non mi faccio Grazie.